Il primo pensiero del mister, parlando di Udinese e Inter, va a chi non c'è più. Se oggi stiamo preparando una partita come quella di domani è per un momento di grande dolore del calcio, ma di tutti in generale. Forse giocarla ad Udine, che è stata la sua seconda casa, è un significato ancora più forte. Credo che anche da quell'evento tragico, è la prima al Friuli, questo ci porta a riflettere. Non dimentichiamo e sicuramente domani ci sarà, sono certo che lo stadio del Friuli tributerà quello che è giusto a Pier Mario. Cosa cambierà domani rispetto alla gara di Firenze? Abbiamo fatto tesoro di quello che non è andato a Firenze, di quello che non siamo riusciti a mettere in campo rispetto a quello che volevamo. Sicuramente questo aumenta la nostra voglia di fare bene. Da quando ci sono io ancora non siamo riusciti a fare risultato piano in trasferta. Quello che non è andato ce lo siamo detti fra di noi e domani parlerà al campo. Sicuramente contro un avversario organizzato come la Fiorentina, ma con individualità anche più pericolosa. Tanto per cambiare, anche la sfida al Friuli viene definita dai media una gara da ultima spiaggia. Mi rendo conto che devo scindere, che ovviamente un pochino l'opinione pubblica, cioè mediaticamente, è un'annata negativa dell'Inter. Questo non ci nascondiamo e l'abbiamo sempre detto. Però io non giudico negativo il nostro trend, cioè nel senso, ma lo dico con serenità ma anche con decisione. Noi abbiamo fatto quattro partite, facendo in alcune partite bene e in alcune partite meno bene, abbiamo fatto otto punti. E diciamo in una nostra mini classifica, da quando sono arrivato io, abbiamo ripreso diversi punti a Udinese, Lazio e Napoli. Quindi io questa cosa dell'ultima spiaggia, che la sento dire da Inter Genova, non sono d'accordo perché è un campionato equilibratissimo. E l'Inter nel suo mini campionato, almeno da quando ci sono io e parlo per me, ha fatto otto punti, più di Udinese, più di Milan, più di Roma, più di Lazio, più di Napoli. Finora. Poi magari andiamo a Udinese e prendiamo quattro gol. Però finora no. Quindi io non ci sto. A questa analisi non ci sto. Per me stiamo facendo bene. Poi è ovvio che di giornata in giornata si valuta, però non capisco perché a cinque partite dalla fine noi stiamo a sei punti dall'Udinese con lo scontro diretto. a tre, scusate, a sei punti dalla Lazio con lo scontro diretto alla fine, a tre dall'Udinese. La domenica dopo Udinese-Inter c'è, si scontrano tutte e quattro, ma perché non ci devo credere? Io ci credo con tutte le mie forze, ma ci credono anche i ragazzi. Quindi è ovvio che è una partita decisiva e non la vogliamo assolutamente perdere, ma per me non è un'ultima spiaggia. Poi ovviamente parlano sempre i risultati.